wildfire procediamo lungo la strada verso la cittadina est richiediamo conferma di copertura alleati in vista squadra non attaccate i bersagli con segnale lampeggiante sono alleati operatori la chiesa del vostro campo visivo si fai partire il cronometro ricevuto ci siamo parlate non siete autorizzati ad abbattere la chiesa non aprite il fuoco sull'edificio veicoli in movimento uno dei veicoli è entrato in attività nemici in uscita dalla chiesa avvistati nemici in avvicinamento dalla chiesa richiediamo permesso di ingaggiare ricevuto permesso accordato ingaggiate i veicoli il movimento e tutti i nemici in vista affermativo squadra potete attaccare il nemico ma lecate intanto la chiesa distruggetelo wow sistemato qui c'è qualcuno che ha fretta sistemali per bene permesso accordato ingaggiate bel colpo bel colpo l'hai centrato il fuoco pronto il fuoco uomo in fuga pronto il fuoco ricevuto fateli fuori eccolo l'abbiamo sovrata non lasciarle scappare dannazione pronto il fuoco fuoco ok si muove di nuovo ok si muove di nuovo ehi state sparando troppo vicino agli alleati ripeto state sparando troppo vicino agli alleati occhio ai segnali IR fuoco eccolo l'abbiamo su radar pronto il fuoco altri soldati nemici centrato a li saltare non lasciarle scappare boom ok uomo in movimento ricevuto fateli fuori ok l'hai preso ora pensa ai altri qui c'è qualcuno che ha fretta wow wildfire qui bravo sei procediamo verso la strada principale dopo aver superato una grossa chiesa continuate a sparare bravo sei chiudo permesso accordato tutti i bersagli privi di segnale sono temici ingaggiateli boom ah deve far male pronta il fuoco a li saltare a li saltare dannazione ok si muove di nuovo l'hai centrato pronto il fuoco regolare portata radar qui c'è qualcuno che ha fretta attenzione stavate per uccidere uno dei nostri si bel colpo è saltato proprio mille attenzio ok l'hai preso ora pensa agli altri uomo in fura merda doveva essere pieno di gas centrato in arrivo liberi di attaccarli tutti bene messaggio centrato permesso accordato aprite il fuoco veicolo in movimento negativo negativo non attaccate ripeto non attaccate alcun veicolo sull'autostrada wildfire dirottiamo i trasporti civili sulla strada principale copriteci squadra non ingaggiate i veicoli in movimento sull'autostrada sono mezzi civili le unità di terra stanno prendendo possesso di mezzi alternativi non ingaggiate alcun veicolo sull'autostrada salvo ordini precisi scommetto che quel dizio è proprio contento guarda che mezzo aveva no se l'è fatta addosso wildfire contrassegniamo i veicoli confermate la ricezione dei segnali ricezione confermata squadra non ingaggiate i veicoli indicati dai segnali lampeggiati sono alleati l'hai centrato attenzione forze ostili preparano un'imboscata su una strada tortuosa navigatore richiedo dettagli sul percorso passo personale alle armi vedete quel serbatoio idrico passo operatore vedete il serbatoio idrico il serbatoio idrico non c'è quello vicino all'incrocio esatto proprio quello vicino al serbatoio c'è una strada tortuosa la vedete? ricercate ricevuto seguite la strada fino al prossimo villaggio dovreste scorgere un altro serbatoio nel villaggio stesso abbiamo difficoltà a localizzare il villaggio a che punto è della strada all'incirca aspettate due chilometri da voi lungo la strada tortuosa lasciando l'autostrada ricevuto procediamo verso il villaggio rimanete in attesa per ingaggiare bersaglia a terra forze ostili si stanno schierando lungo la strada forze ostili pronti a tendere un'imboscata lungo la strada tortuosa sono nascosti tra gli alberi qualcuno ha appena sparato con un rpg ricevuto squadra eliminate tutti i bersagli nel villaggio veicolo corazzato in vista sta uscendo dal fienile continuiamo che si tratta di bersagli ostili permesso accordato aprite il fuoco wildfire ci attaccano ci serve aiuto squadra seguite il fumo ed eliminate nell'origine liberate la strada ai nostri ragazzi nemici col tetto di quell'edificio a U edificio a U affermativo ancora con la torcura quadrata in cima e il tetto piatto è regolare in arrivo boom si bersaglio colpito in pieno ehi state sparando troppo vicino agli alleati ripeto state sparando troppo vicino agli alleati occhio ai segnali R schierete il segnale pronto il fuoco messaggio perso wildfire ci avviciniamo all'area di atterraggio alla discarica lasciamo i veicoli ricevuto bravo sei squadra e i nostri alleati stanno abbandonando i veicoli per raggiungere a piedi l'area di atterraggio non ingaggiate le unità indicate dal segnale lampeggiante affermativo tenete d'occhio i segnali lampeggianti sono nostri alleati nemici avvistati presso il rottamaio squadra avanzate ed eliminateli ehi stanno proprio per divertirsi attenzione stavate per uccidere uno dei nostri colpito in pieno ok uovo in movimento dannazione vendilo wow pronto il fuoco ehi state sparando troppo vicino agli alleati ripeto state sparando troppo vicino agli alleati occhio ai segnali R wow pronto il fuoco ma se ne ho perso il sistema interviene dannazione pronto il fuoco wildfire area di atterraggio raggiunta il nemico attacca da ogni direzione richiediamo supporto su ogni fronte pericolo imminente truppe nemiche in avvicinamento presso l'area di atterraggio da ogni fronte pericolo imminente rimanete nei pressi della calibro venticinque sul posto bene bersaglio centrato boom attenzione squadra e gli alleati in arrivo della zona attenti al fuoco amico ricordo stiamo in attenzione state sparando agli alleati fate attenzione le unità con segnali lampeggianti sono dei nostri wildfire procediamo verso gli elicotteri grazie per l'aiuto bravo sei chiudo sarà proprio un bello spettacolo certamente squadra obiettivo al sicuro sotto scorta ben fatto ragazzi fai ricevuto rientriamo alla base pure ro il su Al-Assad Al-Assad